Ciao ragazzi, visto che la maggior parte l'ha voluto, vi farò un mio video di quando c'è stata da via lunedì. Allora, siamo partita alle 9 e venuto un quarto e avevo un zaino più grande di me. Dentro c'era di tutto, c'era anche un phon e poi io vado al lago e dopo lo attacco al phon, non si sa. Cioè, avevo una malattia di roba e ho usato solo la metà di quello che mi serviva. Se vi rendete conto, vabbè, ho già stato un po' lungo, ero circolata alle ragazze, ho solo una ragazza vicino a me, proprio da spararsi in testa. Comunque siamo arrivati al lago ed era molto bello, non c'era tanto vento, c'era un bel sole, quindi la giornata pareva molto bella. Allora, abbiamo fatto diverse attività, allora io ho iniziato con l'orienting, una cosa tremenda, non mi è piaciuto per niente. Poi ho fatto il, che non canoa, tipo, come dire, il gommone. Ecco, scusate, non mi viene la parola. E poi abbiamo fatto quello che mi è piaciuto di più, il sup, non il sub che vai sotto acqua, il sup con la P. Ovelo sta in piedi sulla tavola e Remi, quella è stata una cosa bellissima. Spero che qualcun altro possa andare o possa essere andato ad abbigliare a fare delle attività, perché sono proprio bellissime, a parte l'orienting. Ciao a tutti!